Prova a lanciare qualche palla con la mano destra Così ti scaldi per bene Ti metti qui e da qua Come hai potuto vedere abbiamo filmato un ragazzo Mentre lo stavamo aiutando a servire meglio Nello specifico ad utilizzare meglio la mano sinistra Il braccio sinistro che lanciava la palla Sia nella prima sia nella seconda palla Nella seconda c'è stata un po' di difficoltà Insomma è per iniziare a capire il concetto di come utilizzare al meglio la mano che lancia la pallina Prima di andare a vedere il video però ti invito ad iscriverti al nostro canale YouTube Qui in basso c'è il pulsante E ti ricordo anche se ti va di iscriverti alla nostra newsletter C'è il link qui in alto a destra se ci stai guardando nel nostro canale YouTube Oppure clicca nel link presente nella biografia, nel profilo Instagram o pagina Facebook Quando lanci vai su con la mano sinistra in maniera tale da simulare quello che è il lancio di palla Va qua e poi su Sembra una banalità ma guarda che lanciare è la base del servizio Adesso prova a servire cercando di Tirare veramente una pallambella ma alta Quasi che tocchi Il telone Vai 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 veloce vai vai velocizza Su Adesso tiene in campo Però cercando di sentire sempre Questo aspetto della mano sinistra Che sta su e la spalla destra che si abbassa un po' In maniera tale Esatto Che senti bene la spinta con Col busto Piedi inchiodati a terra C'è una roba alla volta Se no Da Buono questo Cambia anche angolo va Se tu dopo il lancio Giusto Dopo il lancio Riesci a stare una frazione di secondo Fermo così Ma poco Ok Con la sinistra su Riesci Poi Eccolo qua Cioè la mano sinistra deve stare su Distesa in alto Fino A quando vedi che la palla si ferma Quando si ferma Allora poi L'abbassi E muovi la destra Troppo basso Cioè Ecco il palo Un pelo più alto In maniera tale che Da avere il tempo di fermarti un attimo Se no Fai il movimento con un Movimento ciclico E non senti Ecco Non senti l'accelerazione Pausa Ok Ok Questo è il mio secondo Provo la seconda Dopo mi dirò No no Prima di correggere Vediamo quello che fa in maniera corretta Che sia prima palla Seconda palla Che sia piatta O arrotata Il concetto È lo stesso Cioè lancio Mano sinistra Devo aspettare che la palla mi si fermi E poi colpisco A maggior ragione Nel secondo servizio Che magari la spazzoli un attimo Devi colpire la palla Mentre sta scendendo Quindi la mano sinistra Quindi la mano sinistra Comunque fino a quando La palla si ferma Tu devi tenerla in alto Perché se la abbassi troppo Però il concetto è lo stesso Poi varia L'altezza del lancio La rotazione Tutto Ma la mano sinistra Deve stare ferma Su in alto E devi Prova qualche seconda Magari lanciandola un attimo indietro Sì Sì Quella c'è da Lavorarci un attimo Sulla seconda Ok prova Sì Ma prova Lanciandola un attimo Prova a servire da sinistra Lanciandola un attimo indietro Come se ti rimbalzasse dietro E Prova a spazzolarla in questa maniera qui Cioè non accelerare verso avanti Ma Verso Su Eccola qua Il lancio era giusto Ma non lo faccio mai questo Adesso Accelera un attimo Che lancio questo era perfetto Accelera un attimino Ehi Troppo avanti Devi sentire Che la paghi indietro Esatto Devi sentire l'appoggio di piedi a terra Prima Sì Basta Prova Andamene uno scusa Prova a lanciarla A servire esterno Cioè devi sentire Che vai verso destra Con la mano Esatto Da qui Servi verso esterno Verso corridoio Giusto? Sì Dai dai che ci sei Un pochettino più Un pochettino più Sopra la testa Eccola la Buono Troppo avanti Sì ma è troppo avanti Lanciatela dietro Così la spazzoli su Eccola qua Questa è una seconda di servizio Qua si è visto che la palla è salita Adesso la stai chiudendo un attimo troppo Se la tieni più esterna Va verso il corridoio Con calma Fane un'altra verso il corridoio Così la senti bene Eccola qua Dai che inizi a andare Senti l'appoggio a terra Dei piedi Sì Eccola qua E dopo questa possiamo fare partita Questa è fare partita Questa è farà